Quale banca è sempre aperta 24 ore su 24, attraverso il telefono, internet e il teletext della tua tv? A un consulente globale sempre pronto a venire da te. Ti dà assegni, carte di credito, Bancomat in un conto con costi e tassi vantaggiosi. Così è Banca Mediolanum. Solo una grande banca costruita intorno a te può darti tanto. Sposta il tuo conto su Banca Mediolanum costruita intorno a te.